Proseguono senza sosta gli appuntamenti della rassegna letteraria Fogli di Tè, che nel 2015 sta festeggiando il traguardo delle 20 edizioni con un programma all'insegna della qualità, grazie alla partecipazione di autori di assoluto spessore. La settimana della cultura prosegue domenica pomeriggio a Meleto Valdarno alle 17 con Fogli di Tè, la rassegna letteraria che ospita, caro amici miei, un libro decisamente importante per quanto riguarda il cinema, perché Fabrizio Borghini e Jacopo Onesti raccontano la storia del film di Mario Monicelli che ha fatto epoca in un determinato periodo storico in Italia. Un film che a quasi 40 anni dalla sua uscita nelle sale non ha perso la sua popolarità. I due autori infatti, nel loro libro, svelano in retroscena aneddoti e testimonianze del film che ha fatto ridere intere generazioni. Durante la presentazione, che si terrà alle ore 17 a Villa Barberino, sarà presente anche l'attore Alessandro Calonaci, che interpreterà alcuni pezzi del film e del libro.